Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi cerco di fare contenti tutti coloro che mi hanno chiesto negli ultimi mesi lezioni anche un po' più indirizzate a chi si avvicina al basso o a chi si è avvicinato al basso da poco, quindi chi è all'inizio. A me, come ho già detto molte volte, non piace parlare di principianti, non principianti. Diciamo solo a chi ha meno esperienza sullo strumento e voglio partire proprio dalle tecniche base. Quindi farò nel corso delle prossime settimane delle lezioni proprio improntate su appunto chi sia chi si sta avvicinando appunto allo strumento sia chi già lo suona dal tempo però vuol rivedere magari qualche concetto base. Allora, vorrei parlare di mano sinistra o mano destra per chi è immagino. Allora, e soprattutto vorrei raccontarvi un po' quali sono stati, diciamo che le mie lezioni sono più dei racconti che altro, però proprio per cercare di farvi evitare gli errori che ho fatto io, vi racconto quali sono stati i maggiori e quanto è stato difficile poi risolverli dopo tanti anni che avevo preso delle cattive abitudini. Allora, la prima, quando io suonavo, ad esempio utilizzavo il mignolo, quindi suonavo una nota così, le altre dita mi si allontanavano automaticamente dalla tastiera, quindi dalle corde, quindi mi succedeva ad esempio questo. Può sembrare un, diciamo, non un problema enorme, ma vi assicuro che poi quando andiamo a fare cose veloci, cose più difficili, questo movimento inutile diventa un ostacolo grandissimo. Quindi mi ritrovai, dopo tanti anni, a ripartire proprio con le scale cromatiche, come ho fatto adesso, oppure scale maggiori, arpeggi, tutto quello che si può suonare, brani, sul basso, facendo particolarmente attenzione proprio a questo problema. Quindi in misi lì, prendiamo una scala di La maggiore, vedete tutto scritto qua. Vedete ora come tengo tutte le dita sempre più vicine possibile alla corda, se non addirittura sopra. Tanto non mi compromette poi le note che vado a suonare. E invece prima avrei fatto probabilmente una cosa così. Quindi vado a fare proprio attenzione a quello che succede mentre suono. Quindi vedete quando passo dall'indice al medio, il mio indice rimane fermo sulla corda. E' uguale tra le altre dita. Per lavorare in modo ottimo su questo problema, se lo avete ovviamente, oltre a queste scale, gli esercizi cromatici sono sempre i migliori. ovvero restiamo in La, cioè la prima nota che faccio in La, quinto, sesto, settimo, ottavo, poi cambio corda, quinto, sesto, settimo, ottavo. Sento di fare questo. Ma questo. Anche molto lentamente. Eccetera. Poi vi scrivo un po' di esercizi senza esagerare, facciamo un po' di passi alla volta, non troppi. Altra cosa, sempre su questi esercizi, la mano deve essere come tutto l'avambraccio, polso, diciamo rilassata, morbida. Quindi non... Se sentite qualcosa di teso, vuol dire che c'è qualche problema. Quindi dovete trovare sia la postura, diciamo, del braccio, l'inclinazione giusta, diciamo così, quindi probabilmente non sarà né questo, né questo. Ma il punto dove, in cui, con la vostra postura, perché ognuno poi ha la sua, il braccio riesce, anche mentre suoniamo cose più complesse, a stare disteso e rilassato. Come la mano, soprattutto. Sento che non ho nessuna, nessun tipo di tensione, vuol dire che sto suonando in modo corretto. Se invece sento che fatico, mi entro dei dolori, allora è bene mettersi lì sempre con questi esercizi e suonarli lentamente, finché, appunto, non sentiamo che questi problemi di tensione vanno via. Altro problema che avevo, mille anni fa, quando ero giovane, facevo questo. Cioè, mi spuntava a volte, spesso, il pollice, diciamo, dalla tastiera. Quindi, chi era davanti lo vedeva. Ecco, anche questo mi comportava un sacco di problemi. Quindi, appunto, era una fatica inutile. Il pollice sta... serve per fare presa, diciamo, sul manico. Io lo tengo, diciamo, a parte quando sono nelle ultime note, in corrispondenza, più o meno senza stare a guardare il capello, diciamo, più o meno in corrispondenza del dito medio. Quindi, parallelo al dito medio. Vediamo se... si vede... Mi scorre qui senza alcuna pressione. Quanto basta per fare presa, per scoprire questo. Quindi, non troppo, ma il giusto. Questo. Quindi, ovviamente, questo essendo uno strumento, diciamo, orizzontale, verticale, spalla di contrabbassi, di onocelli, eccetera. Lo strumento, il basso elettrico, è orizzontale. Quindi, il nostro movimento con il braccio sinistro, con la mano sinistra, col polso sinistro, sarà sempre in questo senso. Quindi, abituatevi anche, sembra un'assurdità, ma fare questo senza sentire dolori. Quindi, se ci sono dolori, dolorini, doloroni, tensioni... Anche qui vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nella postura, nella tecnica, appunto. Un'altra cosa che vi volevo consigliare è quella, sempre per la mano sinistra. Oggi parlo solo di mano sinistra, poi vedremo poi altre cose e passeremo poi alla mano destra. Suonare più possibile. Spero che ci siano tanti tra di voi che iniziano, perché questo è il consiglio più grande che posso darvi. Suonare sin da subito, anche se sembrerà ancora più faticoso. Per già iniziare uno strumento è di per sé faticoso, almeno che uno abbia già doti naturali. Fare quello che sto per dirvi è ancora più snervante all'inizio, però farà la differenza. Ovvero, suonare più vicino possibile alle barrette, ai frets, ai tasti, chiamiamoli un po' come volete. Sono queste barrette di metallo. Quindi, rifacciamo la scala di A maggiore. Io potrei farla anche suonando nel mezzo, nel mezzo tra le due barrette, che le note escano uguali. Però, per mille motivi, che poi capirete e semmai vi spiegherò meglio nel dettaglio, è molto, molto, molto meglio suonare più vicino possibile al tasto. Quindi questo. Questo per tutto. Ora ho fatto una scala maggiore, ma posso fare un arpeggio? Oppure una pentatonica. Quindi, fate attenzione a questa cosa. Ovviamente, quando si inizia a suonare questa parte del manico, è ancora più difficile, perché i tasti sono più larghi, quindi si fa ancora più fatica. Però, nulla vieta di iniziare a fare scala, arpeggi, come dicevo prima, iniziando più in alto, diciamo. Quindi più verso la mano destra, dove i tasti sono più stretti, quindi farò meno fatica a suonare in modo colletto, quindi vicino a tasti, come ho detto prima. Oppure anche gli esercizi di prima, facendo sempre attenzione appunto, oltre alle cose che abbiamo detto prima, a suonare vicino ai tasti. E mi raccomando, cercate sempre di fare caso per prima cosa ai dolori. Perché il dolore è, il dolore è sinonimo di qualcosa, un campanello d'allarme che vi deve dire fermo. C'è qualcosa che sbagli, c'è qualcosa che sto facendo nel modo sbagliato. Ragazzi, allora, fare lezioni, appunto, indirizzate a chi ha da poco preso in mano uno strumento, o comunque anche a chi lo suona tanto, però vuol rivedere, diciamo, le basi, i mattoni, i primi mattoni dello studio, non è semplice. E farlo online è ancora più difficile, e farlo online senza avere neanche la persona davanti è ancora ancora più difficile. Per questo ho sempre esitato un po' a dedicare le lezioni a chi appunto si avvicina a questo strumento. perché è una grossa responsabilità a sbagliare si fa presto e a far prendere brutti vizi, brutte abitudini a chi mi guarda, si fa ancora più, cioè succede ancora più facilmente. Quindi ero un po' impaurito da fare questo tipo di lezioni, però vediamo come vanno. Io ovviamente, in parte, leggo sempre comunque un pdf con ulteriori spiegazioni, gli esercizi, eccetera. Rimango anche a totale disposizione per chiarimenti, dubbi, richieste di approfondimento, critiche, tutto. Scrivetemi tranquillamente, se c'è qualcosa che non avete capito, che volete capire meglio, lasciatemi un commento qui sotto o ai vari link che trovate sotto al video. Per oggi mi fermo qui, perché ho già detto un bel po' di cose sulla mano sinistra, poi ci vediamo poi per altre tecniche, per altri studi su questo magnifico strumento.